ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video attenzione iniziano ad esserci delle grosse sorprese da parte di amazon quali sono ha cominciato ad anticipare un po il natale e poi vedremo nello specifico che cosa comunque ripetiamo per chiunque voglia entrare nel fantastico mondo della domotica è il momento giusto ma prima di tutto questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale lasciare un bel mi piace totalmente gratuito e perché no attivare la campanella così da essere avvertiti ogni qualvolta noi cariceremo un nuovo video ma prima di poter lanciare le nostre offerte vi lanciamo la nostra sigla prima di presentarvi però i nuovi prodotti super offerta da parte di amazon volevamo ringraziare daniele volpato che ci ha suggerito lo sfondo che vedete le nostre spalle sì noi avevamo chiesto di darci un consiglio e daniele volpato ha risposto quindi ringraziamo daniele perché è stato pronto e ha interagito con noi e questa cosa ci fa molto piacere ma adesso partiamo con le offerte importanti di amazon partiamo con fire tv stick da 39 euro e 99 a 22 euro e 99 quindi per chiunque abbia un televisore smart ma inizia ad essere lento non lo soddisfa più per le performance nello spostarsi da un menu all'altro navigare o guardare in maniera interattiva un film beh vi consigliamo di prendere questa fire tv stick torna poi di prepotenza l'eco dot di terza generazione da 49 euro e 99 a 24 euro e 99 stanno proprio spingendo ed effettivamente come prodotto per cominciare è davvero eccezionale o se magari avete già un buon parco di nostri dispositivi domotici questo sicuramente vi può aiutare ad ampliarlo hanno fatto poi grossissime offerte sempre sulla fire stick tv perché evidentemente stanno pensando a qualche nuovo produttino da poterci inserire e poi ci sarà l'avvento dei televisori amazon non dimenticatelo se non avete visto il video potete guardarlo qui nell'elenco e dove presentiamo tutta la gamma di televisori e tutte le loro peculiarità ragazzi ecco shot di seconda generazione quindi se non volete solamente la parte audio ma volete anche la parte video perché volete metterlo in cucina piuttosto che sul comodino e quindi poter vedere anche le notizie una ricetta piuttosto che il meteo piuttosto che le vostre foto anche di questo abbiamo fatto un video vabbè di qualsiasi cosa abbiamo fatto un video quindi scorrete qui nel canale e potrete andare a vedere tutte le caratteristiche dei prodotti che vi stiamo presentando tornando invece all'eco shot a quale prezzo da 129 euro e 99 a 99 euro e 99 e secondo noi è un ottimo affare se invece pensate che l'eco shot di seconda generazione sia un po troppo potete stare anche su quello di prima generazione quindi se tra virgolette vi accontentate di un po di meno pixel qualche altra caratteristica in meno ma non tantissime vi presentiamo l'eco shot di prima generazione che passa da un prezzo di 109 euro e 99 a 64 euro e 99 un prezzo veramente stracciato per un prodotto che vi dà tutte le possibilità di vedere quello che volete poi lo so è proprio una mia fissa l'eco flex non scordatevi l'eco flex c'è stata gente che mi ha scritto ma è una prolunga tra virgolette della amazon che noi abbiamo installato da qualche altra parte quindi ci fa da interfono per poter portare la voce dall'altra parte no no assolutamente è un eco a tutti gli effetti quindi una volta che voi lo avete attaccato direttamente alla presa di corrente avrete il vostro assistente vocale direttamente lì dove l'avete piazzato prezzo di questo prodotto 14 euro 99 se siete poi degli estimatori di voglio entrare in questo mondo ma entrarci veramente nel vivo e quindi non accontentarmi di chiedere che ore sono che tempo farà domani piuttosto che le barzellette del giorno ma voglio direttamente collegare un prodotto al mio dispositivo vi consiglio il bundle del eco dot di quarta generazione più presa smart il tutto marchiato amazon da un prezzo di 95 euro ad un prezzo di 79 euro e 99 e con questo potete cominciare a vedere un pochettino come funziona il mondo della domotica in casa molto semplice non vi preoccupate e vi ripeto andate a vedere qui nei video scorrete scorrete troverete sicuramente quello che fa per voi ragazzi vi metteremo un elenco di tanti prodotti che secondo noi sono ottime offerte per poter cominciare o ampliare la nostra gamma di prodotti ve li metteremo qui sotto in descrizione vi basterà fare un click vi rimanderà ad amazon e l'acquisto se lo farete tramite questo link aiutare a crescere il nostro canale a voi costerà zero in più e a noi invece arriverà una piccola percentuale da amazon con la quale poi reinvestiremo in prodotti da presentarvi piuttosto che ampliamento dell'attrezzatura per questo video è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo ciao